Beh, euforia legittima, si vede anche dal clima abbastanza festoso, non solo per il risultato ma soprattutto per il fatto che finalmente sei tornata, bentornata. Grazie, insomma, sono molto contenta, ero molto emozionata e ringrazio tutti, dalle mie compagne, chi mi è stato vicino, la mia famiglia, tutti quanti, non vedevo l'ora e dopo cinque mesi, insomma, è stata dura, però adesso spero sarà solo in discesa. Infatti è stato bello anche il momento del tuo ingresso ma soprattutto la partecipazione delle tue compagne che ti hanno accolto veramente con una gioia e con la felicità proprio di rivederti rientrare in campo. Ma al di là di questo, che squadra hai ritrovato? Ma oggi direi che è andata molto molto bene, diciamo che dalle prime partite dove magari mancava un po' di esperienza, adesso stiamo facendo molto bene. Una neopromossa, essere quinti, penso che non so se sia mai successo, quindi è solo da fare i complimenti perché fino a qua hanno fatto un bellissimo campionato. Adesso invece che finalmente sei ritornata a disposizione della squadra, cosa speri di poter dare personalmente e qual è invece l'obiettivo collettivo che pensi che potete perseguire? Gli obiettivi come dall'inizio del campionato non ce ne siamo prefissati, comunque anche fare un quarto posto, un terzo posto, insomma noi non ci prefissiamo niente. Io invece spero di, in queste partite che mancano, insomma appunto di dare il mio apporto, di segnare il più possibile e di cercare di fare la differenza come, insomma era per questo che ero stata acquistata. Quindi spero di riuscire a dare una mano alle mie compagne. Ecco, l'altra errorina del giorno. Ah, a proposito, abbiamo una sciarpa che abbiamo comprato oggi, Vanni mi dispiace ma... Dispiace per i due minuti. Eh non solo, aspetta, anche qualcosa altro. Se non è troppo offensivo però bisogna fare vedere pure questo. Ah, ecco. Ma quindi possiamo dire che c'è una tifosa del Napoli adottata ormai? Sì, simpatizzo, ovviamente simpatizzo, sempre simpatizzato eh, però simpatizzo Napoli sì, assolutamente. Come ti trovi qui a Napoli? Quindi, insomma questi sono tutti attestati che dimostrano che ti sei perfettamente integrata ma al di là di tutto, insomma com'è questa esperienza qui a Napoli? Come la stai vivendo? No, no, mi sono trovata benissimo dall'inizio, la gente è molto accogliente, le persone sono solari, fa un po' più caldo e quindi molto meglio in questo caso del nord. Quindi benissimo, l'unica pecca è stato l'infortunio, per il resto tutto bellissimo, la città è bellissima, quindi tutto bene. Quanto ti è mancato il calcio? Troppo, mi è mancato troppo perché in 26 anni non mi sono mai fermata. Anche d'estate quando il campionato è fermo io vado a giocare a calcetto, gioco in spiaggia, non mi fermo mai, quindi stare senza calcio per cinque mesi è stata insomma una dura esperienza, però alla fine mi ha fatto crescere anche questo. Il bocca all'uvo. Crepi, grazie. 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 Grazie.